Ciao a tutti e benvenuti su questo canale, io sono Ilaria e parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che andremo a vedere oggi sono le previsioni per l'autunno 2021 per il segno del capricorno. Vi ricordo comunque che sono letture di tipo generale, quindi potrebbe essere tranquillamente che non tutto risuoni con voi. Voi prendete quello che vi serve e quello che non, semplicemente lasciatelo all'universo. Per avere poi un messaggio più completo, io vi consiglio anche di andare a dare una sbirciata al vostro segno ascendente e al vostro segno lunare. Bene, mostrami capricorno, grazie. Capricorno, abbiamo il mago qui. Il di quello che sono tutti gli strumenti che abbiamo in nostro possesso per manifestare il tipo di realtà che noi vogliamo. Potrebbe essere per qualcuno che magari stia lavorando con la legge di attrazione. Comunque il mago è un arcano numero uno, quindi mi parla di un nuovo inizio, di un qualche cosa che sta prendendo, diciamo così, forma o che già è iniziato. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi. Ecco, la morte, giusto appunto. C'è una rinascita, una, appunto, una morte di qualche cosa. Probabilmente qualcuno ha tagliato dei rami secchi vecchi. E c'è una rinascita, un nuovo inizio e si ricollega anche al numero uno del mago. Quattro di pentacoli. Probabilmente c'è qualcuno che si sta lasciando indietro un certo tipo di energia. Regina di bastoni, dieci di coppe e dieci di bastoni. Per qualcuno mi sta parlando di, come se fosse finita un determinato tipo di situazione e di qui in avanti ci si dedicasse di più a quello che è la famiglia. Ci si dedicasse di più a quello che è quello che ho costruito per me. Ok? La famiglia qui con i dieci di coppe mi parla di una famiglia in senso stretto. La famiglia che uno crea, che se siete single, se non avete nessuno, potrebbe essere voi e il vostro gatto o il vostro cane, per esempio. Ma c'è una forte presa di potere, ok? C'è un tenersi stretti quelle che sono le proprie sicurezze. Per qualcuno mi potrebbe anche poter parlare di proprio una questione monetaria. È una presa di potere da parte vostra, che potrebbe essere legato sia alla famiglia appunto di appartenenza o legato ad un gruppo anche, nel caso fosse un progetto, un piccolo gruppo direi. Quello che si ci dicono le carte è che c'è il bisogno di lasciarsi andare indietro determinati tipi di responsabilità o di pesi. Ed è una cosa che ancora non viene fatta probabilmente, ok? Magari molte responsabilità non sono le vostre, ma ve ne siete sempre occupati fino ad adesso ed è difficile così tagliare un po' quello che è l'abitudine, se vogliamo, 5 di pentacoli. Per qualcuno questo set di bastoni mi parla della necessità di concentrarsi su se stessi o probabilmente si è completamente concentrati su se stessi. Per qualcuno mi parla anche di meditazione, di ricerca spirituale, la stella. E con questo 5 di pentacoli diciamo che si sente questa energia un po' triste, un po' desolata, probabilmente per quello che riguarda un obiettivo o un desiderio che voi avete. È come se si volesse andare in un certo tipo di direzione, ma questa morte, questi tagli che sono stati effettuati hanno ridimensionato un pochettino quello che era la vostra strada, il vostro sogno, insomma. Quindi c'è un certo tipo di delusione. Ma la stella vi parla di avere comunque speranza. La stella parla di quello che sono appunto i sogni, gli obiettivi, i desideri, ok? Per qualcuno può anche voler dire che c'è un aiuto divino. Per qualcuno mi parla proprio di questo destino, ecco, che si sta per compiere o che si compierà. Magari si è già compiuto. Magari state già iniziando a vedere quelli che sono i cambiamenti di questa situazione, di questa morte. 3 di spade. 3 di spade mi parla di una sofferenza, di un tradimento, di quello che è una perdita di fiducia. Probabilmente questa morte è dovuta a quello. Anche se... guardate le carte mi dicono che dovete concentrarvi su voi stessi. Basta. Finito. Quello che fanno gli altri o quello che vi aspettate dagli altri è un'altra cosa. Voi centratevi su voi stessi, applicatevi, lavorate sodo, fate meditazione, fate sport. Quello che mi viene anche da dire è non rivelate troppo quello che volete fare, i vostri progetti. Tenetevelo stretto, ok? Perché nel momento in cui gli altri sanno quali possono essere i vostri progetti tendono, anche se magari lo fanno con buon cuore, però tendono poi un po' sempre a contaminare con le proprie esperienze di vita quello che potrebbero essere le aspettative sul risultato. Se per esempio una persona ha provato a fare dieci cose diverse e in nessuna è riuscita, questa persona avrà o proietterà un'idea negativa di quello che è il nuovo. Lui non è mai riuscito a fare niente di nuovo, quindi quando tu arrivi dici ah sai ho questo nuovo progetto in testa, lui dirà tanto non serve a niente, va sempre tutto male. Quindi dipende veramente dalle esperienze personali di ognuno. Il consiglio è tenetevelo per voi, tenetevelo stretto, cercate di capire quello che fa felice voi, quello che a voi riempie il cuore, meditate, lavorate da soli a questa cosa, ok? Bene, vediamo un altro messaggio da questo mazzo che sono le carte delle fate, tre carte per piacere grazie, la prima equanimità, quindi cercate di essere equi in quello che mi verrebbe da dire e volete far sapere agli altri quello che invece è meglio tenere per sé, ok? Ancora due carte per piacere grazie, riflessione, quindi riflettete bene, riflettete bene prima di parlare o prima di prendere determinate scelte e l'ultima carta è condivisione, ok? Condivisione non mi parla solo delle idee, ok? Anzi, probabilmente per conoscere realmente come sono le persone con le quali state collaborando è giusto condividere del tempo con loro, che potrebbe anche essere solo un hobby o non lo so, o andare a cena, condividere del tempo, insomma. Bene, capricorno, questo è quello che ho per te per la stagione ottunale 2021, spero che in qualche modo le carte abbiano potuto illuminarti, abbiano potuto darti qualche spunto su cui riflettere, se è sì, iscriviti al canale, dai un like al video e condividi. Io ti ringrazio molto per il tempo trascorso qui con me, ti mando un abbraccio e ci vediamo presto, ciao ciao!